Oggi parleremo degli stati della materia. La materia è fatta di particelle piccolissime chiamate molecole, collegate tra loro da piccole molle chiamate legami. La materia in natura si può presentare allo stato solido, liquido, gassoso. La materia allo stato solido ha una forma propria, ha un volume proprio, le molecole sono incomprimibili e i legami sono molto forti. Allo stato liquido la materia ha una forma propria, un volume proprio, le molecole sono comprimibili e i legami sono deboli. Allo stato gassoso la materia non ha una forma propria, non ha un volume proprio, le molecole sono comprimibili e non ci sono legami tra le molecole.